Mi chiamo Maria Giovanna Serpi, sono un'ingegnere ambientale e lavoro praticamente per la società poliste nell'ambito degli acquisti pubblici verdi, GPP, che significa Green Public Procurement. Per tre anni ho lavorato infatti per l'ecosportello della provincia di Carboni Iglesias. Qua il mio compito è quello di promuovere praticamente gli acquisti pubblici verdi, che sono un ambito della sostenibilità ambientale. Praticamente questo perché vi sono sia delle direttive comunitarie che un piano di azione nazionale e un piano regionale, il PAPERS, della regione Sardegna, che è la prima regione in Italia che ha attuato un piano sugli acquisti pubblici ecologici. E quindi qua praticamente vi sono del materiale informativo sia per gli enti pubblici che vogliono comunque fare degli acquisti di servizi, forniture, lavori a ridotto impatto ambientale e sia della documentazione legata alle imprese che invece vogliono comunque produrre o fornire servizi di questo genere. Quindi si tratta comunque di attività legate alla riduzione dell'impatto ambientale di ciò che noi possiamo praticamente acquistare fondamentalmente. Un'altra sezione è quella del premier regione in circolo che praticamente è sempre legata al premiare delle buone pratiche di sostenibilità ambientale in generale questa volta rivolta sia agli enti pubblici che alle imprese e in alcuni casi anche in partnership tra loro. Quindi il mio compito è anche quello diciamo di fare marketing riguardo alla possibilità di partecipare appunto a questo premio che scadrà il 30 settembre di quest'anno. Grazie